Ieri Salvini e Di Maio hanno incontrato Mattarella e gli hanno proposto il professor Conte come premier del nuovo governo Samba. Oggi Mattarella incontrerà i presidenti di Camera e Senato e poi ci farà sapere. Dopo aver incontrato i presidenti di Camera e Senato, Mattarella si prende qualche ora per decidere. Dal Quirinale è tutto, a voi la linea. Per voi vado verso il Quirinale per vedere se riesco a trovare qualche notizia fresca di prima mano. Mattarella ha appena dato l'incarico pieno a Conte, il quale ha accettato con riserva. Staremo a vedere nelle prossime ore se riuscirà a formare un governo. Ha fatto pure la diretta mentre il presidente incaricato Conte saliva in taxi. Direi che la piazza del Quirinale Roma è veramente tutto.